Mi stai riportando in clinica. Pensavo stessimo andando a casa. Stavamo un po' insieme. Ascolta Bruno, io lavoro. Sono fuori sei giorni a settimana. Non posso stare dietro a tutte le tue... Alemina. Dai, Lino. Problematiche. Dai, andiamo? Sì, ragionevole, per favore. Cosa fai? Problematiche. Sei impazzito? Guardami. Guardami. Guardami! Guardami! Io sono questo! Sono questo, cazzo! Guardami! Sono strancio! Non me l'hai guardato in vita tua, cazzo! Bruno. Bruno. Respira, tutto. Respira. Lo riporto dentro. Se non ha niente in contrario. Ok. Guardami. 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 Guardami.